Gentili colleghe e colleghe, ben trovati. Con questo videoclip vorrei illustrarvi le modifiche che sono state apportate al regolamento sull'orario di lavoro. La prima novità riguarda l'introduzione di due tipologie di orario di lavoro che sono messe a disposizione del personale, oltre a quelle già esistenti che naturalmente rimangono in vigore. La prima tipologia oraria è dedicata al personale che svolge attività lavorativa su cinque giorni a settimana e prevede un'articolazione della presenza in servizio per tre volte a settimana con un orario giornaliero di sei ore e venti minuti e per restante due giornate dei rientri pomeridiani con una durata complessiva giornaliera richiesta pari a otto ore e trenta. L'altro profilo orario è invece dedicato al personale che svolge attività lavorativa su sei giorni a settimana e prevede un'articolazione della presenza in servizio per tre giorni a settimana su sei ore e venti giornaliere e per le restanti tre giornate un orario richiesto di cinque ore e quaranta. Entrambi i profili orari danno diritto al buono pasto, ma per l'impatto che le nuove tipologie di orario hanno sul ticket pasto vi rimando ad una specifica clip che abbiamo elaborato e che è disponibile nella pagina web che trovate nel sottotitolo. L'altra novità riguarda la flessibilità oraria in uscita, infatti si passa dai precedenti trenta minuti a cinquanta minuti. Questo significa quindi che rispetto alla durata giornaliera dell'attività lavorativa sarà consentito anticipare o posticipare l'orario di uscita fino a cinquanta minuti. Nulla cambia per quanto riguarda il riconoscimento del lavoro straordinario retribuibile, per il quale continua ad essere previsto l'inserimento della specifica richiesta di autorizzazione nel portale web di gestione delle presenze per l'autorizzazione alla permanenza in servizio superiore a trenta minuti. Altra novità riguarda infine la flessibilità oraria in ingresso che di norma rimane dalle ore 7.45 alle ore 9 ma è consentito per specifiche esigenze personali di poter richiedere compatibilmente con le esigenze di servizio delle strutture un ingresso anticipato fin dalle ore 7.30. Con questo ho concluso, spero di esservi stata utile, naturalmente siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento di cui abbiate bisogno. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!